Volevo approfondire questo, visto che hai detto quello che ha detto anche Bon Jong-un sul palco dell'Oscar, nel senso che più personale è, meglio è. Hai detto che tu hai portato una chiave personale in Diaz e dopo sei riuscito a coinvolgere e a far arrivare il messaggio, dato che comunque è stata premiata e è stata riconosciuta. Oltre alla storia vera, quella di Diaz che tutti conosciamo, cosa hai messo di personale di Daniele che gli altri sono riusciti a comprendere? Ma allora Diaz è un film diciamo molto singolare, per esempio non è un film in tre atti, nella narrazione classica diciamo nell'80, forse nel 99% dei film prevale la struttura in tre atti, che è la struttura del romanzo ottocentesco e che il cinema ha fatto propria perché funziona per raccontare la storia dell'eroe, i tre atti sono perfetti. Mentre Diaz è un film corale, anzi in Diaz non c'è un protagonista, c'è una massa, la protagonista del film Diaz è la massa. Allora io ho dovuto studiare le strutture della tragedia greca classica in cinque atti. I cinque atti che poi sono completati da un prologo e da un epilogo, quindi è come se fossero sette, permettono alla narrazione delle digressioni e poi permettono alla narrazione di rientrare nel flusso narrativo senza mai perdere il focus del racconto. Diaz è un film in cinque atti. In Diaz non c'è un protagonista e non c'è nemmeno un gruppo di protagonisti, ci sono 140 attori, 140, quindi ci sono 140 personaggi. Non solo ci sono 140 attori, quindi 140 personaggi, ma ci sono anche 12.000 comparse. La struttura narrativa di Diaz è la struttura di un horror, è strutturato come un horror perché non entrare in quella porta, più volte la narrazione ti porta sulle soglie dell'avvenimento e poi si torna indietro. Quindi Diaz ha una serie di caratteristiche strutturali che sono abbastanza inusuali nella nostra cinematografia, perché questo tipo di struttura narrativa non l'ha mai adottata nessun film. Solamente un film a proposito di Ettore Scola ha adottato una struttura narrativa simile, che è La terrazza. La terrazza mutua da The Killing, uno dei primi film di Kubrick, mutua la struttura narrativa. È la storia di un gruppo di rapinatori che deve fare una rapina alle corse dei cavalli, ok? E ogni volta la storia torna indietro finché tutti questi rapinatori non muoiono, ok? Nel film di Ettore c'è un giradischi con una canzone che riporta sempre l'azione allo stesso punto, in Diaz c'è una bottiglietta che va avanti e indietro nel tempo. Beh, bellissimo. Ok, stai chiedendo differenza tra produzione americana e con l'italiana. Guarda, secondo me in questo momento nel panorama italiano ci sono tanti bravi registi e non importa più, perché col fatto che le produzioni adesso sono una marea contro l'idea. Guarda, guarda Sollima. Comunque Sollima è riuscito a esportare un format che sta andando in tutto il mondo, quindi ti ho detto un nome a caso ma potrei dirtene altri. Ho visto Martina e Dell l'altro giorno che è un altro bellissimo film. Quindi secondo me il panorama italiano qualcosa da dire ha. Tu Daniele cosa ne pensi di questo? Io penso che noi, proprio perché abbiamo la storia che abbiamo, abbiamo una scenografia importante alle nostre spalle, abbiamo tante frecce nella nostra faretra. Scusa, ti interrompo, forse qualche anno sia un po', qualche generazione sia un po' accomodata anche su questa cosa di aver la storia. Questa è una caratteristica di tutti i paesi che hanno una storia importante, in qualche modo hanno a che fare con un passato complesso, grande. Immaginate un povero pittore italiano che deve fare i conti con Raffaello o Sanzio, per dirne una. Comunque noi abbiamo una storia importantissima e quindi con questa storia dobbiamo relazionarci, non è che ci possiamo relazionare con un'altra storia. Dopodiché il cinema, a differenza di altre forme d'arte, ha anche un linguaggio universale, internazionale, mettiamolo così. E quindi siamo liberi di andare a pescare suggestioni nelle cinematografie di tutto il mondo. In questo momento ci sono nel nostro paese grandissimi attori, grandissimi registi, abbiamo un deficit strutturale dal punto di vista della produzione. Alcune delle nostre produzioni più importanti si sono internazionalizzate, ma fanno soprattutto serie per la televisione. Il cinema lo fanno in pochi e secondo me tutti stanno sottovalutando quali gravi rischi si corrono. Perché il luogo comune che vuole che le serie sono belle come il cinema, o meglio, una serie è bella come un film, questo luogo comune, che è un luogo comune come un altro, che ha i suoi pregi e i suoi difetti, funziona solo se c'è il cinema. Se non c'è come paragono, in termini di paragono, il cinema, non funziona. Il cinema è un luogo dove si può sperimentare molto di più che nei contesti dove l'organizzazione industriale è più ferrea. E in un paese che non ha una cinematografia capace di sperimentare, nel tempo rischia di non riuscire più a produrre nemmeno buona televisione. Quindi la produzione cinematografica e audiovisiva in genere è un sistema, come dicono i francesi, in cui tout se tient. Le cose devono stare insieme, non possono esistere separatamente. E questo vale per la formazione dei nuovi quadri, delle nuove leve lavorative, dei nuovi artisti, che siano sceneggiatori, registi, attuori. Io di questo mi occupo, perché con la scuola Gian Maria Volontè facciamo questo. Ne parlo tranquillamente perché è una scuola pubblica, è gratuita, quindi non sto facendo una pubblicità a progresso. Quando una persona, un giovane, entra nel sistema produttivo, riesce ad orientarsi se ha una buona formazione. Altrimenti si disorienta e ci mette molto più tempo, se è molto bravo, ci mette molto più tempo a orientarsi e poi ad avere un risultato. Se non è bravissimo, rischia anche di perdersi del tutto. Quindi un sistema produttivo che funziona deve avere un luogo dove si formano le maestrante, dove si formano le coscienze critiche, perché la scuola è anche questo, non è solo una formazione tecnica. Bisogna anche conoscere il cinema, la letteratura, l'arte in generale e saperla riconoscere e gestire. Poi, dopo la formazione, ci deve essere la capacità del sistema di assorbire queste persone e di valorizzare i loro talenti. Se il sistema produttivo non è in grado di valorizzare i talenti, a un certo punto si esaurisce. Ottima risposta Davide, credo che sia stato esauriente.